Come poterti dire che questa mia canzone già Ti appartiene e mi parla di te e tu con me Come poterti dire che questa mia canzone già Ti appartiene e mi lascia di te Come in un regalo di Natale La curiosità di non sapere cos'è 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 E ancora buongiorno al pubblico di Radio Italia Sono Musica Italiana, Radio Italia TV Noi siamo in auditorium, c'è il pubblico E oggi chiaccheremo con un artista che secondo me ha fatto un grosso salto di qualità Con l'ultimo festival di Sanremo ma anche con il suo disco Non So Ballare Io sento un'affinità molto grande con lei Proprio per l'agilità con la quale ha deciso di intitolare così il suo nuovo disco Ne parleremo, tra l'altro oggi abbiamo anche una bella anteprima perché vedremo un videoclip Quello di Scintille che proprio oggi parte sui canali televisivi Facciamo un applauso allora per Annalisa Ciao, ciao a tutti Ho detto già un'imprecisione, intanto ciao Annalisa, benvenuta Ciao, grazie Che bella, siediti Perché è un'anteprima per noi il video oggi Poi partirà sui canali televisivi C'è stato anche un'anteprima su un famoso quotidiano Su Corriere lo diciamo così almeno siamo corretti nel dare le notizie Però siamo contenti perché ci hai messo un po' Ma mi dicono che tu ti sei divertita molto a realizzare il video di Scintille Sì, mi sono divertita ed è stato poi comunque un bel lavoro Ho fatto bene con tutte le fasi giuste eccetera eccetera E devo dire che sono molto contenta del risultato E l'attesa evalsa questa grande fatica diciamo Noi tra poco lo vedremo, ascolteremo chiaramente la canzone Per chi ci sta solo seguendo in radio C'è anche la possibilità di vederci in streaming Per cui basta un collegamento internet E siamo lì nelle vostre case o nei vostri uffici Non so ballare, questo disco è uscito lo sappiamo insomma 14 febbraio Durante la tua partecipazione a Sanremo Io ci ho beccato niente, te lo dico quest'anno Perché avevo votato ovviamente per Non so ballare Ed è passata Scintille ma ci sta Ma perché pensavo che Non so ballare Ti avesse davvero messo un pochino più a nudo su quel palco Rispetto a Scintille e credevo fosse l'operazione che alla fine insomma anche tu volessi fare con questo disco Sì, l'operazione è questa Però non soltanto perché diciamo che in questo disco oltre il volersi sicuramente mettere a nudo C'è anche una volontà di proporre un mondo musicale diverso Che si avvicina sempre di più a quello che desidero proporre di qui in avanti E quindi è eterogeneo anche musicalmente, no? Sì, 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 è molto eterogeneo e le due canzoni rappresentano un po' le due facce di questo disco C'è la volontà di raccontarsi, di mettersi a nudo, mettere le mani avanti e dire quali sono le debolezze Ammetterle, rendersene conto, appunto non so ballare, dice un po' questo E poi dall'altro lato c'è invece un voler recuperare un'ironia, una spensieratezza Che forse ho recuperato un po' poco nei lavori precedenti Che erano molto sentimentali, molto appassionati, molto diciamo sentimentali E di qua sentimentalmente seri E invece c'è anche una gran parte di questo disco che è rivolta proprio alla spensieratezza O anche a raccontare cose poco spensierate però con leggerezza Insomma guardarsi intorno e raccontare Sì perché Annalisa alla fine, cioè io l'ho scritto anche oggi nella recensione che ho fatto su Leon de Fanchi Cioè comunque Annalisa è quella brava, quella intelligente, quella apposata, quella laureata, quella seria, quella, 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 quella In verità poi io sono riuscita a vederti un pochino fuori dalle telecamere E tu ti prendi un sacco in giro, sai ridere molto, sei autoironica Questo però in effetti viene fuori sempre molto poco Ma anche da ragazza, da ragazza, da bambina, così nel senso tu eri la bambina brava che non dava problemi Sì, ero la bambina brava che non dava problemi Ma sì, questo fa parte un po' di un modo di essere che in realtà deriva da sobrietà Sì, che ci sta Perché poi c'è tutto quel lato di insegnamenti, di infanzia, di genitori Io sono così perché vedo le telecamere, vedo che siamo in un contesto di un certo tipo Cerco di essere all'altezza, capito, di comportarmi bene, eccetera Poi, no, ecco, deriva da qui questa serietà che si percepisce Che in realtà vuole essere un impegno a prendersi la responsabilità delle situazioni che si può affrontare E proporsi al meglio che si può Che poi ci sta tutto, eh, voglio dire Non è che io voglio, cioè, non voglio un'epidemia di velinaggio, robe va Per carità di Dio, ci sta l'educazione Ma non sarei neanche in grado Tu non sai quanto io apprezzi questo Però era giusto per fronteggiare questa annosa e anche un po' stucchevole ormai, credo Critica, no, su Anna Lisa, insomma, vittima quasi del suo personaggio In verità non c'è vittimismo Ma assolutamente no C'è la voglia di rispettare Guarda, ci ho fatto un disco, l'ho intitolato Non so ballare proprio per dire questo E cioè, ognuno i suoi limiti Io sicuramente ho i miei E forse i miei limiti hanno un po' a che vedere con l'aprirsi, no? L'essere a volte solari, lasciarsi andare Io non sono così Ed è per questo che canto Perché forse cantando, no? Vado incontro a quei limiti che ho E non so ballare, va bene E questa cosa, non so ballare Ballare è una metafora in realtà Ma ovvio, ma ovvio Però so fare qualcos'altro E cerco di rimediare, di compensare quel vuoto Quel buco che ho io, come tanti altri hanno Con qualcos'altro E quindi parleremo poi insomma del fatto che tu abbia chiamato praticamente il tuo posto Due Tare a Sanremo, ovvero Emma Del fatto che tu parli di amore verso se stessi Di violenza sulle donne Insomma, di argomenti ce ne sono tanti Nali a Radio Italia Se volete usare la nostra piattaforma Twitter Ci siamo anche su Facebook E al 339-994-100-400 Una testimonianza che ci tengo insomma a recapitarti Cara, Annalisa Alberto Bertoli Puoi fare, Paola, i miei complimenti ad Annalisa La ritengo una grandissima interprete Una che canta testi, non solo note, molto raro Ciao Alberto intanto Grazie Apprezzo molto la sua poetica E quindi detto da lui mi sembra insomma un ottimo complimento Un bellissimo complimento, sì sì Anch'io lo peso appunto sul personaggio che è lui E quindi, e no poi mi dicevi che il suo batterista quest'estate ha lavorato con te Esatto, sì e quindi doppiamente contenta di questa cosa Quindi insomma c'è stato un apprezzamento Sono felice Super reciproco Super reciproco Si parlava di Emma Ci sono insomma delle domande che arrivano anche dalla nostra pagina Facebook Ti è piaciuto duettare con Emma Io dico ardito, è interessante che tu abbia scelto quello che sulla carta poteva essere proprio il tuo posto Sia da un punto di vista caratteriale, quasi estetico Infatti così È abbastanza così Però proprio per questo io ho pensato che potesse venire fuori qualche cosa di interessante E poi era insomma c'era sicuramente la volontà di fare una cosa ben fatta E io ce l'ho messa tutta, ce l'abbiamo messa tutta È stato carino, è stato anche bello provare insieme Ma Anna Oxa faceva parte di un vostro amore infantile comune Perché? Perché secondo me Sì c'era qualcosa Sì, sì Mi ricordava No, no Beh Per quanto riguarda me, ti dico la verità Io tutt'oggi penso che Anna Oxa sia stata una delle voci più straordinarie Che si siano sentite insomma nei nostri luoghi Quindi io perlomeno Mi stava quasi venendo dai nostri laghi No Perché? No, tutti i luoghi Questa è una deformazione professionale Lo so, mi devi perdonare Non è che luoghi chiama laghi per forza Spesso, Sanremo sai Sto scherzando No, però è vero insomma Una sicuramente delle artiste alle quali chi vuole fare insomma Ma la cantante e l'interprete si ispira a gioco forza Tu però sei stata anche cantautrice in questo disco Sì, 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 sì Mi auguro di andare avanti così Sono soddisfatta della canzone che ho potuto inserire in questo progetto Proprio perché ci si trova molto bene in mezzo alle altre canzoni Era giusta E poi è una canzone sulla quale ho lavorato molto in modo anche insolito Cioè avevo il ritornello da tanto tempo E non riuscivo a collocarlo, ad associarlo Perché mi sembrava sempre di rovinare qualche cosa Quando hai paura di andare avanti in un lavoro Perché c'è un qualcosa di piccolo che ti scatena un'emozione E poi a volte prendi la strada sbagliata Alla fine, ma a distanza di due o tre anni Mi ci sono rimessa forse con una maturità diversa O anche delle cose diverse da comunicare E è venuta fuori questa canzone di cui sono felicissima Sì, anche perché voglio dire Se non so ballare sicuramente appunto È il manifesto, è il titolo anche del disco Però anche questa canzone insomma racconta di te Racconta di quello che sei disposta insomma a condividere Anche con il pubblico Perché scrivere una canzone, parlare di sé E esporla, darla in pasto tra virgolette al pubblico Vuol dire anche qui mettersi a nudo Oltretutto scrivendo il testo Ma io guarda non sono disposta di più Il fatto è È la mia mission ormai No, per forza Diciamo che mi sto avvicinando sempre di più Al propormi come anche autrice Oltre che come cantante Ma è soltanto una questione di fasi Perché in realtà lo sono sempre stata E quindi è sempre stata una mia vocazione Quella di passare attraverso la scrittura Per raccontare e comunicare qualche cosa Che diversamente forse non sono in grado Anzi sicuramente non sono in grado di comunicare Quindi è una necessità oltre che una volontà